cari amici delle missioni pace bene sto qui dove c'è il santuario della nostra signora dei pompei la regina del rosario stiamo qui con i postulanti da nocera inferiore ho chiesto tutti loro come stanno adesso vi saluteranno c'è anche la famiglia di nostro frate piotr che è segretario generale per la formazione sta con me qui perdinando vorresti dire face bene con me sta l'altro frate che si chiama fiorentino fiorentino ti piace la fiorentina no no che ti piace avellino avellino salutiamo a tutti ciao qui con noi sta francesco francesco dove sei francesco io di casetta casetta la regia di casetta alla regia di casetta mai vista no no ti dobbiamo portare ti dobbiamo portare ok abbraccio a porte un abbraccio charles where are you come from charles i come from cameron in the province of ambrus but but do you speak french and english and english ok pace bene ciao l'altro giovanotto pace bene fratelli gaetano da palermo gaetano da palermo da sicilia vuol dire la tua patrona è santa agata santa rosalia santa rosalia santa rosalia benissimo benissimo questo uomo è padre sono vittorio dalla puglia taranto taranto con furore ma mi sembra che non sei un qui da la puglia no ce n'è un altro guardo mamma ma saluta prima saluta saluta ciao 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 c'è san giuseppe da copertino come ti chiamo io sono dito a vita non giusto però vengo da copertino il paese di san giuseppe sei venuto qui sono venuto qui volevo venire a piedi ma lui non ha voluto andiamo in macchina ma c'è l'altro l'altro giovanotto che si chiama come si chiama gabrielli da dove sei gabrielli gabriele non c'era superiore ma sta con noi l'altro gabriele ma da dove sei sono dalle filippine good morning everyone i'm from passai city manila 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 is very big city e vero che nelle filippine si parla anche spagnolo alla una a las dos a las tre lunes martes mercolese tutta la settimana salutiamo a tutti voi salvadore salvadore la non c'era superiore inferiore 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 perché noi frati sempre dovremo essere rimanere gli ultimi inferiore quindi salutiamo tutti che sono da non c'era superiore noi da non c'era inferiore pace bene sta con noi anche segretario generale per la formazione che è dietro di salute sta qui con la sua famiglia e la signora iola che da 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 dove io la non c'era superiore noi frati siamo della cera inferiore perché siamo frati la signora è da non c'era superiore sono chiama anche il suo sposo che si chiama alfonso pace bene io vi saluto dio li benedica e la vergine sempre si avvicina pace bene e 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 Grazie a tutti.